Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Lutto a Forum Ad annunciare la scomparsa è stata la pagina ufficiale del programma TV dove è stato uno dei giudici dal 2011 al 2013. La redazione di Forum, infatti, ci ha tenuto a spendere parole di cordoglio e vicinanza per la famiglia del giudice che è stato uno dei maggiori protagonisti dello show. Definito il vero e proprio papà di Forum È scomparso, all'età di 85 anni, Italo Ormanni, il giudice napoletano volto noto di Forum. Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l'amico di tutti, il confidente, il consigliere, ha scritto la redazione del programma Mediaset su Facebook. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi per chi potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati. La tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi. La tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi. La tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi.